Per voi, non ci caca nessuno ma siamo live. Sì. Saluterà. Quindi due col cappellino e uno no, ma non è un problema. Io c'ho anche la neve. Io non faccio il Natale. Quello senza cappellino è triste perché è da settimane che sa questa cosa e non si è procurato il cappellino. Doveva fare il Grinch. Io sono il Grinch. Allora passami il cappello a me. Non sei voluto venire, culo pesante. Ho avuto i miei problemi, quindi... Sei pigro! Anni fuori di quello. Per il resto sì, ho avuto i miei problemi, ma sei pigro! Neanche i regali ti puoi essere voluto prendere. Ma sì... Non mi vedo nella cam. Come non ti vedi? Non festeggiando il Natale, posso anche prendere l'open. Sto raddrizzando la cam. Sì, ci sono. Madonna quanto sono zoomato e quanto sono sgranato. Eh, vabbè. Cioè, sembro una web cam del 91. Eh, non ci potete fare niente. Dovevo pezzarmi in qualche modo. Sì, sì, infatti penso che avrebbero di acquistare la nuova webcam. Ma quanto era bello MSN all'epoca? Come vai, sta uscita? Non lo so, ma io posso del thriller di Pegasus. Che boomer. No, perché Spark ha detto... La webcam del 91, a me mi veniva in mente MSN che era vecchio. Vabbè, anche tu... Anche tu sei vecchio, però... Non è che adesso ti rivango... Ma MSN era comunque figo come programma all'epoca. Madonna... MSN era al top a l'epoca. Secondo me, se lo rimettessero in piedi, spaccherebbe di brutto anche adesso. Non lo so. Adesso c'è tanta roba. C'è Whatsapp, c'è Telegram, c'è Discord. Sì, ma se metti tutti insieme uscì MSN. Quello è vero. Vabbè, quindi cosa facciamo? Un augurio... Saluto a tutti! Anche se non ci cagano nessuno. E... Tanto sarà un buon Natale. Sarà anche sui social. Tanto lo metteremo anche sui social. Poi qualcuno, io, Yami, Angelo o qualcuno, scarica e carica sui social. Comunque sì, auguriamo un buon Natale. Che faccia! C'è Sergio che sta volendo spiritato verso la cam. Vabbè ragazzi, un buon Natale a tutti i nostri follower. E un buon anno nuovo. Con Sergio che fa così, non so come potrò andare a finire. Vabbè, tanto nei prossimi giorni streameremo ragazzi. Sì, assolutamente. Un buon anno ci saranno. Sicuro, dai, dai. Però era bello avere un mini video di Natale 2020. Natale 2020 a casa, tutti tristi, non scherzo. Esatto. A casa sì. Io sono un po' con i miei problemi, ma anche Marco ha i suoi problemi. Quindi però, quello è un altro discorso che è meglio non portare. Consollerò con la birra. Boh, tutti c'è nei propri problemi in qualche modo. Sì. Io mi sono ubriacato di mina a tavola, per cui. No, non dovete bere, non dovete bere. Non ascoltate Seven. Io poi l'ho bevuto un sorso di birra. La Fitra Live lo picchiamo. Una di queste salate però ce la facciamo alla salata alcolica. Non si possono dire queste cose, ci sono i bambini. Chi pensa ai bambini? Chi pensa? Intanto ci sono, abbiamo due spectre. Uh, che, 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 che. E uno sono io, probabilmente. Ah, ok, va bene, ci sta. Allora. Vabbè, ci, 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 ci. Qui, utenti ce ne sono... C'è Ticcur, che non so chi sia. E poi c'è, vabbè... No, no, Fanny, Stafanny? Stafanny che è sempre presente, ma non scrive mai niente. Ma è, è un bot? No, no, è un bot, è Francesca. In teoria. Non abbiamo detto tante di quelle volte. Eh, ma mi dimentico i nomi. Guarda il mio cappello, è meglio del tuo. No, guarda, il mio se giro la testa non scompare. Neanche il mio. Prova a girare la testa. Girola per bene, non a metà. Non sono un gufo, eh. Comunque ogni tanto scompare il tuo cappello. No, non scompare. Sì, scompare. E io ho la neve. Anch'io ho la neve, però si chiama Forfora. Ma dai! Non si dice! Vabbè, va. Allora, salutiamo tutti. Auguri ancora di... Buon Natale, buone feste. Buon Capodanno tutti da soli a casa. Sì, sì. A giocare a Cyberpunk. Sì, io ci gioco. A me mi sto divertendo un sacco Cyberpunk. Fino ad ho trovato solo due bug. Cioè? Allora, nel cambio arma, non ha caricato la texture dell'arma, quindi avevo l'impugnatura, ma non avevo l'arma. Arma fantasma! E invece il secondo bug è stato che praticamente, parcheggiato, esploso il vetro così, senza un motivo plausibile. E le schegge laggavano, continuavano a glitchare. Aspetta, io che trovo mille e mille milioni di bug, Cyberpunk lo farò crashare. Ma devo dire che lo regge abbastanza bene, comunque. Cioè, ovviamente non puoi pimparlo al massimo, perché sennò non lo regge, però per il resto... Sì, no, io probabilmente terrò tutto in alto. Se ci proverò... Vabbè, io ho provato a farlo girare con il ray tracing. E devo dire che disabilitandolo va molto, ma... Eh buono, dai, dai, gg. Io adesso sarò stanza, ovviamente. E vedrò in full accadina, in alto, se riscorreggerò un 60 frame, poi streamerò. Sì, se scendi un pochettino in alcune cose, sì. Comunque non ci sono tantissimi parametri da settare. Sì, ho attaccato, penso che terrò al minimo i filtri. No, ma allora io ho visto che comunque il gioco regge abbastanza bene. Cioè, comunque anche con... Non ci sono grossi key di frame. Cioè, l'unico punto magari un po' carico è giusto la città, quando c'è tanta gente. Però non è detto che scenda sempre. Cioè, io riuscivo a giocarci con l'RTX attivo. Hai detto tutto. Eh, gg. Comunque con la patch 1.5, quella da mezzo giro che abbiamo fatto... Io mi sa che c'ho con l'installazione minerata. Aspetta, dov'è che si vede il... Non lo so, non l'ho mai avviato, nettamente, ancora. Aspettavo di finire il trasloco. Allora, aspetta, check for update, fa vedere. Ho fatto check for update, cosa mi dice? Niente. Rete... Aspetta, configura, verify, repeat, configura. No, a me lo dice. Vabbè, non importa. Vabbè, dopo queste previsioni nei prossimi... Nei prossimi programmi a breve, ci salutiamo. Buone feste a voi ragazzi e buone feste a chi vedrà il video. Almeno noi ce le avremo caricate e possiamo dire Noi c'eravamo a Natale, ci siamo impegnati. Noi c'eravamo a Natale 2020, e voi? Esatto, eravamo vivi. E siamo nella storia. Dai, stacco davvero. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buone feste. Buone feste. Buone feste. Grazie a tutti